eccoci qua al terzo modulo la terza forma di guadagno del piano compensi di synergy worldwide mega match oggi parliamo delle commissioni base perfetto allora siamo arrivati a metà del nostro delle nostre varie forme di guadagno e siamo alle commissioni base benissimo allora innanzitutto dobbiamo piccolo fare un distinguo su questo tipologia di piano di compensi o piano marketing è definito un sistema binario quindi con due squadre la squadra a destra e la squadra a sinistra lo vediamo bene nella foto nella slide quindi sulla destra ok ci sono rappresentati un team sotto di te azzurro a sinistra e uno verde a destra ok bene le commissioni base e arrivano fino al 10 per cento su tutto il volume della linea minore in questa rappresentanza per capire l'esempio abbiamo che il team verde il team destro fattura 15 mila punti mentre il team sinistro team azzurro fattura 10 mila punti quindi le commissioni così definite base ci vengono pagate fino al 10 per cento della nostra linea azzurra che fattura i 10 mila punti cosa interessante di questo tipo di sistema non abbiamo nessun tipo di blocco quindi l'organizzazione può arrivare effettivamente all'infinito sia destra che a sinistra e anche altra cosa interessante indipendentemente se le persone li abbiamo iscritte noi o no questa è la prima forma di guadagno che la possiamo definire guadagni indiretti perché non derivano direttamente dal nostro lavoro fisico ma dalla nostra squadra dall'organizzazione che abbiamo creato ok ovviamente creare un'organizzazione non vuol dire semplicemente sponsorizzare delle persone abbiamo visto prima portarla a fare i quattro facili passi quindi dopo che mi sono creato la mia piccola organizzazione e quindi ho persone sia destra che a sinistra posso già avere questa forma di guadagno le commissioni base che arrivano fino al 10 per cento della nostra linea minore direi abbastanza semplice questa forma di guadagno ok bene anche questo piccolo video è offerto dagli incaricati indipendenti synergy worldwide del gruppo purify club io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro la mia più buona giornata